allora prima parte dell'esperimento segheria mobile abbiamo impiantato le nostre piastre per tenere ferme le rotaie appoggiate sopra le rotaie prima di fare tutto ciò abbiamo fatto un'operazione di ritaglio perché ovviamente il tronco non era del tipo dritto ma è un tronco nodoso eccetera è anche abbastanza grosso e adesso dovremmo iniziare a dargli la spianata la prima spianata per poi avere delle assi dritte lì c'è la nostra segheria mobile e qua c'è il nostro Mario Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti